Già viarne ultimo, Polizia di Aruba celebra 28 anni di Corps d'Agh di Corpo Polizial. A celebrare anche durante un simbolo completo, che ha culminato con una celebrazione di juramentazione di miembro del nuovo corpo polizial e presentazione di diploma in Polizia di Agrado. Corps Polizia di Aruba celebra 28 anni di Corps d'Agh di una famiglia crescente. Un lavoro sicuro non faccio il cammino che poter dedicare e sacrificare il corpo di buoni, però poter dimostrare in questo momento, il corpo di buoni persone. Perdonare un sentito grande di orgoglio per mirare con tanto joven a decidere di essere servitori per il paese. E oggi mi chiedo di comparte un mensaggio e un sentimento profondo per il joven a qui. C'è un bucino di lei che non faccio il membro del nostro corpo polizial. C'è un bucino di articolo di cui non per riuscire se il nostro cittadano di attuare correttamente e che ora non per violare qualche di articolo di lei. C'è un bucino di lei che ci studiare anche, che è expressare e mettere la base legale per la vostra attuazione. Che c'è un bucino di diritto per fare una gente, che c'è un bucino di arrestare una gente, che c'è un bucino di investigare un auto o un caso. Che c'è un bucino di lei che ci studiare anche, che ci studiare anche, Un lavoro cammino anche con l'autorità necessario per mantenere l'ordine della nostra comunità, lo che ci chiede la principale è l'integrità che si eserce il lavoro con noi. Mi comprovi che la mentalità e la norma non sono le cose diverse, ma l'integrità è qualcosa che noi abbiamo, senza excepzione. L'integrità è ora l'abbiamo, lo che l'abbiamo sa che è corretto. Ora vi cumpri con lo quali vi aprimiti, ora vi vivi secondo le norme e le valore che vi sa che è buono, ora vi stima a Dio e vivi secondo le parole, ma l'abbiamo anche con l'abbiamo. Ma che ci chiede come una nota popolare, ora vi conoscere la verità, l'onestità, l'attitude e l'abbiamo, dove ci sono arrivati nella polizia, la famiglia, la GPA e la RUBA portano orgoglioso di Dio. Questa sempre ha detto un momento che non ha detto il uniforme a quello che vuoi vestire, ma che chiama il role model per se ricoprire e farlo, e perché ci sono la GPA e la RUBA orgoglioso di suo corpo policiale. Mi chiedo felicità del nome di Corp Sleire, tu, tu, colega, sin excepzione, che ha terminato l'estudio e che ha ricevuto il diploma. E che è chiaro per seguire il lavoro con l'alma e il corpo per il corpo policiale di Aruba e per Aruba. Ademà di Corp Sleire, non per l'obiettare la scuola di polizia che ci ha avuto 39 anni di esistenza. Noi siamo contenti con il nostro portale e amfittorio per una celebrazione assinata grande. Un'altra è servizio di agradecimento per il Corp Sleire, che vorrei combinare con il trascimento di diploma e un'argomentazione. Per 39 anni accade, scuola polizia di educare e tre noi giovani. Per non per esistere e studiare professionale, maggi più belle che ci sono delle polizie. Abbiamociato la libertà e noi possiamo soffrono in fronte e semplicare l'obiettere. di nostra bo. Mi tavisca è sei pa sobra la nuova parte del mondo e non sta assinando. Team G5 tambe dono pa bene in agente al corpo policial. Pa notizia buonoci, a mito è Xol Simon.